Si è svolta a Taranto, presso l'Aula Magna della sede dell'Ufficio Scolastico Provinciale, la cerimonia di premiazione dell'ottava edizione del concorso Custodia del Creato, una responsabilità di tutti tra grandi scelte e piccoli gesti quotidiani. Il premio, che recupera il potente messaggio dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, è promosso dalla Commissione per la Custodia del Creato della Diocesi di Taranto e dall'Ufficio Diocesano Educazione, Scuola e Università, ed è rivolto agli studenti di ogni ordine e grado. Noi come Commissione Diocesana per la Custodia del Creato siamo tanto impegnati su questo, ma crediamo che sia il bellissimo esempio che sono in grado di offrire proprio i più giovani, a partire dai più piccoli, dai bambini della scuola dell'infanzia, a contaminare, ecco usiamo il termine in positivo, contaminare gli adulti che hanno tanto bisogno di cambiare prospettiva, stile di vita. Con loro, con l'esempio dei più piccoli, possiamo farcela. La scuola ha luogo nevralgico e strategico di elaborazione di valori fondanti dell'umanità. Il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, il dottor Vito Alfonso. È un'occasione organizzata insieme alla realtà ecclesiastica e all'Arcivescovo di Taranto in cui viene posta in evidenza l'attenzione che i nostri studenti hanno per la realtà che ci circonda, per l'ambiente, per il creato, per il mondo intero. La cerimonia è stata preseduta da Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Taranto. Certo, è importante che proprio i piccoli percepiscano l'importanza di vivere in un mondo bello e in un mondo vivibile per tutti. Quindi questi momenti aiutano a tirar fuori proprio sia questo desiderio ma anche questa volontà che hanno espresso i ragazzi con i loro elaborati. Grazie a tutti.